Siamo alla 22esima edizione della Bicicletta Mora, rappresenta il più importante impegno ludico ricreativo dell'anno che coinvolge soprattutto i più piccoli sperando di avere dei futuri bonotori. Che dire, per noi festa è un giorno di allegria e soprattutto è un giorno di promozione alla donazione per le generazioni future. E' di camminare come gruppo compatto. Questa è la macchina. 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 Grazie.